Non lo necessitiamo, è lui, è qui. McGregor non è nuovo a tale tipo di bizzarrie. Nel 2018 infatti fu arrestato a New York dopo aver assalito un autobus nel corso di una rissa, scontando in seguito 5 giorni di servizi sociali. Lo scorso ottobre è stato inoltre squalificato dai combattimenti per 6 mesi dopo la rissa con il lottatore russo Nurmagomedov.